Ben ritrovati e soprattutto buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di Fano TV oggi lunedì 5 giugno 2017 andiamo subito sul nostro calendario per vedere il santo di oggi oggi la se ricorda San Bonifacio il sole è sorto alle 5.27 tramonterà le 20.46 e poi andiamo a vedere subito il bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede precipitazioni rovescio temporale sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane più probabili però nel settore centro meridionale della regione le temperature sono lieve diminuzione i venti sono deboli il mare sarà poco mosso per la giornata di martedì domani 6 giugno il cielo sarà nuvoloso con possibili piovaschi sparsi durante le ore centrali della giornata più probabili nel settore collinare e costiero della regione Marche le temperature sono senza variazione di rilievo i venti deboli il mare sarà poco mosso probabile tempo stabile almeno fino alla giornata di fino alla giornata di venerdì allora andiamo adesso a leggere i giornali la tragedia sfiorata torino dove migliaia di tifosi stavano assistendo alla partita della loro squadra del cuore la juventus i racconti in primo piano oggi sui quotidiani corriere e carlino allora la pagina dell'edizione di pesaro eccola qua lo scoppio e poi il terrore il racconto dei nostri tifosi che in piazza torino nella serata champions bimbi per terra raccontano loro sangue gente che fuggiva in tutte le direzioni parla michele carbonari intervistato dal resto del carlino con la maglia bianca con gli amici al suo arrivo in piazza san carlo e poi in primo piano sulla coprire sulla prima pagina del carlino i 90 anni di un uomo che ha fatto della creatività la cifra della sua vita ovvero pieri che sta a valle foglia imprenditore con il genio in tasca che si è costruito lo vedremo tra un attimo una ferrari tutta tutta da solo poi papa francesco che non dimentica la famiglia ferri il pontefice ha telefonato alla famiglia nell'anniversario dell'omicidio di andrea entravano dentro il cinema e urlavano è un attentato è il racconto è il racconto di brunella paolini che è una urbinate che si trovava l'altra sera a torino dove la figlia frequenta l'università ma che non non era lì per assistere alla partita sul maxi sermo tutt'altro lei era andata al cinema è entrata al cinema per vedersi un film è un certo punto in pochi attimi dice lei abbiamo visto entrare nel cinema centinaia di persone che urlavano un attentato un attentato erano persone spaventatissime meglio dire che erano completamente nel panico a quel punto è scoppiato il panico giustamente anche all'interno del cinema perché immaginate voi provate a medesimarvi gente che entra dentro il cinema spaventata terrorizzata che dice è un attentato un attentato e si è alzata anche lei dalla sedia e poi grazie ad un'uscita di sicurezza è riuscita a scappare e lei racconta al giornale a me la partita non interessava per nulla volevamo solo vedere un film ma in pochi attimi abbiamo notato persone terrorizzate che cercavano rifugio nel locale rifugio dentro il cinema l'altra testimonianza è quella di luca ubaldi il tifoso arrivato da urbania lui ha 39 anni siamo arrivati con un gruppo di una quindicina di tifosi anche lui racconta il suo momento di panico due pagine questa mattina sul resto del carlino la cronaca di fano invece irrompe in casa dell'ex fidanzata una donna di 42 anni lui ne ha 26 è stato arrestato ma si trova già libero è potuto tornare libero senza alcune limitazioni il pm aveva chiesto l'obbligo di dimora a mondolfo dove risiede questo 26enne però il giudice l'ha rigettato evidentemente ha ritenuto che il molestatore non sia pericoloso e ne ci riproverà lei invece è una donna cubana di 42 anni guardate questa fotografia sul nostro sito internet occhionotizia.it in primo piano da ieri sorpasso troppo vicino auto si ribalta in superstrada due feriti non gravi portati in ospedale a fano un incidente ieri sulla superstrada tra lucrezia e calcinelli forti rallentamenti sulla corsia in direzione mare dicevamo di quest'uomo imprenditore che compie 90 anni che si è costruito una ferrari chiaramente una ferrari in vetro resina l'ha costruita da sé l'ha costruito da solo eccolo qua in posa è un imprenditore si chiama giuseppe pieri fa 90 anni e questi 90 anni ammette lui in questa intervista insomma se li sente un po' tutti lo ammette però riesce a sfuggire alla tentazione della nostalgia fin da ragazzo racconta lui voleva aprire una ditta poi da fabbro ha costruito il primo rimorchio la partita o meglio c'è stata la world league di pallavolo nei giorni scorsi una tre giorni con tantissima gente ha giocato anche l'iran la squadra dell'iran e che ha richiamato le attiviste anti regime una di queste è stata portata fuori dal palazzetto dello sport per non bloccare la gara perché questa donna con le colleghe attiviste hanno esposto questo striscione hanno esposto uno striscione perché in iran le donne non possono partecipare non possono andare agli stadi a vedere le partite e lo striscione recitava lasciate entrare le iraniane negli stadi la protesta consisteva anche nella distribuzione di 150 magliette con scritto appunto lasciate che le donne iraniane entrino nei loro stadi la distribuzione è venuta davanti al palace di pesero prima del match molti hanno indossato la maglietta però poi dopo la polizia è intervenuta lo vedremo tra un attimo anche nel racconto del Corriere è intervenuta e l'ha portata fuori ieri però era di nuovo al palazzetto Papa Francesco invece si ricorda dell'omicidio di Andrea Ferri che è avvenuto il 4 giugno del 2013 venne ucciso a colpi di pistola in via Paterni da due persone poi condannate lo ricordiamo Donald Sabanov e Karim Bari il primo all'ergastolo in appello il secondo invece a vent'anni di carcere Papa Francesco si ricorda lo chiama chiama la famiglia per la 36esima volta della tragedia e ha parlato sia con Michele che con la mamma torniamo alla paladina delle donne iraniane espulsa dal palace di Pesero è stata anche l'anno scorso in Brasile durante le Olimpiadi in un'analoga situazione anche in quell'occasione giocava la nazionale di volley iraniana e anche quella volta la paladina delle donne iraniane è stata allontanata con un codazzo acceso di interventi polemici l'Iraniana invece ieri si è presentata all'Adriatica Arena ma senza striscione ha potuto seguire l'incontro vittorioso dell'Iran sulla Polonia che è finito per 3 a 1 un episodio che comunque sta facendo il giro del mondo alla pace di Fano invece del Corriere Adriatico alcol urla, vomito e sangue via Nolfi Sud, terra di nessuno ultimo episodio nel fine settimana una lite violenta con sfondamento di una vetrata lo chalet del mare invece riunione decisiva ecco tutte le prescrizioni la commissione di vigilanza favorevole all'autorizzazione sono stati richiesti parcheggi, autobus, navetta, bagni, personale antincendio da definire l'affitto dell'Arenile insomma hanno complicato talmente le cose che probabilmente se di questo passo sarà impossibile tenerlo comunque in gestione l'illegalità dei ristoranti discoteca il precedente del sequestro del Chi Sei si tratta di il punto focale di questa chiamiamola illegalità tra virgolette viene riscontrato ed è stato riscontrato anche in passato perché c'è un altro ristorante a Fano questa volta in Sassonia il Chi Sei, gestito da Augusto Perugini che per le serate danzanti non autorizzate c'è stato un patteggiamento è stato condannato diversi appunto i controlli un po' in tutti i ristoranti che fanno anche musica in questo caso non è musica d'ascolto ma una vera e propria discoteca senza autorizzazione ed è questo il nodo ed è questo il problema anche se sempre dal Corriere Adriatico sotto vedete bisogna garantire il divertimento dei giovani il sindaco sulla politica turistica il regolamento concilia tutte le esigenze adesso andiamo fuori provincia affermo perché un uomo di 55 anni Roberto Pezzuto lo vedete con il suo paracadute ieri ha fatto un lancio un lancio purtroppo che è finito male perché si è schiantato a terra ed è morto lancio mortale a San Marco insieme ad altri tre amici era salito a 3600 metri per preparare una figura acrobatica per un'esibizione la velatura di riserva gli si è attorcigliata ad una gamba e quindi il paracadute non si è aperto la vittima è un barese di 55 anni molto esperto che però di fronte ad un imprevisto di questo genere purtroppo non ha potuto fare nulla c'è anche una fotografia allucinante in questa pagina del Corriere Adriatico la vittima a terra priva di vita torniamo sulle cronache di Pesaro perché? per parlarvi di quello che sta succedendo su Facebook terra di nessuno anche Facebook beh insomma sapete come la penso su Facebook comunque insulti e minacce sui social all'avvocato di Mecozzi l'avvocato è Maria Lucia Pizza che sta difendendo Mecozzi l'omeopata che ha curato male evidentemente il piccolo Francesco di 8 anni, 7 anni morto qualche giorno fa per un'otite appunto trascurata in oltre 25 anni dice l'avvocato Pizza non mi è mai successa una cosa del genere mai ero stata oggetto di pesanti invettive lei dice e racconta sì sì ho saputo che ce l'hanno con me però ci sono cose più importanti non mi interessa non ho io un profilo Facebook non avrei neanche il tempo di seguirlo dice e quindi non mi interessa quello che dicono su di me intanto Mecozzi è stato convocato per domani all'ordine dei medici dove sarà ascoltato dalla commissione disciplinare per la morte di Francesco sosta selvaggia torniamo alla sosta selvaggia siamo ormai in estate dunque si torna l'annoso problema del parcheggio sulla Statale 16 Trafano e Pesaro siamo di nuovo tornati nel caos proteste e multe per i pericoli auto in panne manda in tieta la circolazione tensione e impropri tra gli automobilisti insomma insulti da tutte le parti la polizia stradale non aveva una pattuglia che coprisse l'Adriatica dall'Adriatica Sottomonte a Urbino invece la cronaca infiltrazioni idriche in centro l'esasperazione dei cittadini nessuna amministrazione ci ascolta battaglia della sinistra istanza invece di CUT dalla Valle del Cesano invece partecipazione e tecnologia sfida virtuosa tra le due liste i candidati a sindaco di Terre Roveresche puntano molto sulla partecipazione poi da Senigallia fine settimana con il fumo quattro giovani sono finite nei guai prime proteste per la musica ad alto volume sul lungomare Alighieri da Osimo prelievi dalla carta di credito della ex fidanzata fa la spesa a scrocco per la nuova fiamma furbone questo qua acquisti fraudolenti di abito di lusso e bigiotteria la polizia scova l'impiegato che sapeva i codici il 52enne ha ammesso la sua responsabilità era pentito e pronto a risarcire i danni però è stato denunciato e quindi adesso dovrà in qualche modo ripagare ora le ultime due pagine sono per lo sport lo sport in particolare il volley un'Italia ancora a Cerba a Pesaro gli azzurri di Blengini informazione sperimentale lo ricordiamo perché mancavano alcuni personaggi come Guantore insomma quelli più più forti anche che abbiamo visto alla abbiamo visto alle Olimpiadi di Rio è una formazione dicevo sperimentale perdono anche contro il Brasile la tappa italiana della World League ai campioni olimpici visto il K.O. della Polonia con l'Iran l'ultima pagina è sempre sul volley però dal resto del Carlino il Brasile è troppo forte la nazionale delude un palace però finalmente pieno e in effetti ieri c'era davvero tanta gente allora noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che alle 20.30 questa sera c'è il telegiornale occhio alla notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.